ciao a tutti amiche in questo video vi mostro come realizzare questo bellissimo medaglione questo è un progetto perfetto sia per realizzare una collana molto particolare oppure possiamo usare questo progetto per decorare la casa per decorare una tenda eccetera come vedete il medaglione molto particolare inoltre occorre veramente pochissimo materiale per realizzare questo progetto io naturalmente vi aspetto giù nei commenti e vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social giù in descrizione vi lascio comunque tutti i link di riferimento ma adesso passiamo subito ai materiali per realizzare questo progetto userò un filato in cotone da lavorare con l'uncinetto dal due e mezzo al tre e mezzo poi ci servirà l'uncinetto numero 3 poi delle perline un ago da lana un ago da ricamo del filo più sottile per cucire le perline inizio questo lavoro con il cotone blu per prima cosa faccio un anello magico in questo modo prendo l'uncinetto e porto questo filo da quest'altra parte in questo modo e creo quest'anellino per prima cosa faccio 3 catenelle 1 2 e 3 in questo caso queste catenelle sostituiscono una maglia alta poi lavoro all'interno dell'anellino un totale di 15 maglie alte quindi 1 2 3 4 per un totale di 15 dopo aver fatto tutte le maglie vi ricordo che devono essere un totale di 16 comprese le 3 catenelle di inizio lavoro a questo punto posso anche tirare questo filo per chiudere l'anellino quindi in questo modo io lo lascerò comunque leggermente aperto non lo chiudo del tutto e adesso posso chiudere questo primo giro facendo una maglia bassissima qui nella terza catenella quindi vado qui nella terza catenella e faccio una maglia bassissima e questo è il primo giro facciamo il secondo giro sempre con il blu per prima cosa lavoro un totale di 4 catenelle 1 2 3 e 4 in questo caso le prime 3 catenelle sostituiscono una maglia alta e poi c'è la catenella di separazione adesso lavoro una maglia alta nel punto che viene dopo quindi qui su questa maglia alta lavoro una maglia alta poi faccio una catenella di separazione e di nuovo lavoro una maglia alta nel punto successivo quindi non salto nessun punto di base catenella e una maglia alta nel punto successivo vado avanti sempre con questa sequenza di una catenella e una maglia alta fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del secondo giro fatto la maglia alta la catenella di separazione chiudo il giro facendo una maglia bassissima qui sulla terza catenella in questo modo se vado a contare questi spazi quindi tutti questi spazi sono un totale di 16 quindi andate a contare questi spazi vi dovete ritrovare con 16 spazi a questo punto io posso tagliare comunque il filo lascio un po di filo in più e vado a nascondere queste codine qui nel retro del lavoro perché cambierò anche colore facciamo il terzo giro per fare questo giro entro in uno qualsiasi di questi spazi quindi ad esempio entro in questo spazio prendo il filo in questo caso userò il fucsia e lo porto da quest'altra parte in questo modo e lavoro un totale di tre catenelle 1 2 e 3 catenelle a questo punto lavoro un punto puff con tre gettati quindi filo sull'uncinetto entro sempre in questo spazio prendo il filo lo porto su una volta quindi un solo gettato di nuovo filo sull'uncinetto entro prendo il filo e porto su un terzo gettato e poi chiudo tutte queste asoline in questo modo quindi ho fatto questo punto puff con tre gettati e qui abbiamo le 3 catenelle per iniziare il lavoro poi faccio 2 catenelle di separazione e vado qui in questo spazio quello successivo vado a realizzare un punto puff con quattro gettati questa volta quindi entro prendo il filo e porto su primo gettato secondo gettato terzo gettato e quarto filo sull'uncinetto porto da quest'altra parte quindi faccio passare attraverso tutte le asoline e poi faccio 2 catenelle di separazione ancora faccio un punto puff sempre con quattro gettati quindi entro in questo spazio quello successivo quindi entro qui e faccio un punto puff con quattro gettati quindi uno due tre quattro gettati poi chiudo tutte le asoline e faccio 2 catenelle quindi vado avanti sempre in questo modo realizzo di nuovo un punto puff con quattro gettati filo sull'uncinetto passo attraverso tutte le asoline poi faccio 2 catenelle quindi andate avanti sempre in questo modo con questa sequenza fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del terzo giro alla fine mi ritrovo con un totale di 16 punti puff qui ho fatto le due catenelle di separazione chiudo questo giro facendo una maglia bassissima qui sulla terza catenella quindi entro qui e faccio una maglia bassissima e questo è il terzo giro a questo punto posso anche tagliare il filo lasciare un po di filo in più e vado a nascondere qui nel retro le codine del lavoro facciamo il quarto giro questa volta utilizzo il beige entro in uno qualsiasi di questi spazi quindi ad esempio entro qui prendo il filo e lo porto da quest'altra parte in questo modo e faccio una catenella poi lavoro sempre all'interno di questo spazio due maglie basse quindi entro in questo spazio e lavoro due maglie basse 1 e 2 poi faccio 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado in questo spazio quindi qui e lavoro 3 maglie basse 1 2 e 3 maglie basse di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado in questo spazio e faccio 3 maglie basse 1 2 e 3 maglie basse di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado in questo spazio e lavoro 3 maglie basse 1 2 e 3 andate avanti sempre con questa sequenza fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del quarto giro ho fatto in questo spazio le 3 maglie basse per chiudere il giro faccio in questo modo dopo aver fatto queste 3 maglie basse lavoro 2 catenelle e poi faccio una maglia alta qui come vedete qui ci sono 2 maglie basse la catenelle 2 maglie basse io vado qui in questa prima maglia bassa e chiudo in questo modo il giro quindi entro qui e faccio una maglia alta in questo modo quindi per chiudere questo giro ho fatto 2 catenelle e una maglia alta qui in questa maglia bassa nella prima maglia bassa che ho fatto quindi chiudo in questo modo il quarto giro facciamo il quinto giro come vedete ho sempre il filo attaccato quindi continuo con lo stesso colore per prima cosa faccio un totale di 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 poi vado qui come vedete in questo spazio entro qui e faccio una maglia bassa in questo modo poi lavoro 4 catenelle 1 2 3 e 4 entro in questo spazio quindi qui e faccio una maglia bassa di nuovo 4 catenelle 1 2 3 e 4 entro qui in questo spazio quindi qui e faccio una maglia bassa quindi andate avanti sempre in questo modo facendo 4 catenelle 1 maglia bassa nello spazio fino naturalmente ad arrivare alla fine del giro sono arrivata qui alla fine del quinto giro fatto la maglia bassa 4 catenelle chiudo questo giro in questo modo faccio una maglia bassissima qui su questa catenella qui ho la maglia alta e poi c'è questa catenella entro qui e faccio una maglia bassissima e chiudo in questo modo il quinto giro a questo punto posso anche tagliare il filo e andare a nascondere qui nel retro le codine come vedete questo è il medaglione terminato vi dico anche quanto misura il mio medaglione misura circa 10 cm e mezzo quindi questa è la misura del mio medaglione a questo punto lo vado anche a decorare con delle perline io cucirò una perlina bianca qui al centro e poi qui dove si trovano il giro proprio delle maglie alte vado a cucire una perlina qui in alto sulla maglia alta poi salto una maglia alta e di nuovo vado a cucire una perlina quindi alterno in questo modo questa lavorazione quindi adesso vado a cucire anche le perline poi vi faccio vedere il risultato finale come vedete questa è la collana terminata cucendo in questo modo queste perline per cucire le perline vi consiglio di usare un ago da ricamo e un filo più sottile come vedete qui ho inserito anche questo laccio per indossare la collana per il laccio comunque c'è anche il tutorial c'è il tutorial di un'altra collana dove vi ho fatto vedere come realizzarlo giù in descrizione magari vi lascio il link di quest'altro tutorial adesso vi faccio vedere anche un'altra versione di questa collana con questo medaglione come vedete ho fatto anche quest'altra versione molto bella anche questa e qui ho cuscito le perline in un modo diverso quindi comunque ci possiamo veramente divertire tantissimo a realizzare questi medaglioni io spero che questo progetto vi piaccia fatemi sapere nei commenti che ne pensate inoltre vi ricordo che potete seguirmi anche sugli altri miei social giù in descrizione comunque vi lascio tutti i link di riferimento noi ci vediamo alla prossima ciao a tutte